Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Serafico San Giuseppe! Che su questa terra vesti la grazia di sollevarti a Gesù. Non solo con l'anima ma anche con il corpo. Ottieni anche a noi, con l'intercessione della Celeste Mamma nostra Maria. La grazia di imitar le tue virtù. Per sollevar l'anima nostra, dalle cose terrene. Alle quali siamo miseramente attaccati, in alto, fino al Paradiso. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amén. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amén. San Giuseppe da Copertino. Prega per noi. Amén.